Morire per un gesto avventato o per una regola non rispettata è successo ieri sera poco dopo le 19 nella stazione di Cassano Dadda nel milanese dove un ragazzo di 18 anni è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Il giovane di origine marocchina era in compagnia del fratello di un amico. Scesi da un treno hanno evitato il sottopassaggio, hanno scavalcato un moretto in cemento e si sono incamminati lungo i binari. È finito in tragedia un gesto compiuto con leggerezza, forse per sfida alle regole. Uno dei tanti segni di disagio e neppure tra i più evidenti che emergono tra i giovani in questo periodo dopo le restrizioni della pandemia. Anche i sempre più numerosi episodi di bullismo e di violenza di gruppo evidenziano infatti la fragilità dei ragazzi e la sempre più grave emergenza educativa. Perché sono ragazzi che non riescono più a trovare il senso, non si chiedono più il senso di ciò che vivono. Vivono sempre nelle irrazionalità, nello stordimento dell'attimo presente e questa mancanza di progettualità di vita, questa mancanza di sogni e anche di possibilità certamente atterrisce, atterrisce innanzitutto loro che hanno come parola incubo la parola futuro. Dobbiamo allora anche noi adulti interrogarci, impegnarci per dare una proposta educativa che sia davvero all'altezza di questo disagio.